...i 20 minuti iniziali previsti, una piccola contrazione in 15 se ci riusciamo. E poi, come giustamente ci ricorda il generale De Laurentiis, tutto ciò che perderemo nel dibattito, nella discussione, poi ovviamente andrà sottratto alla nostra colazione. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sono Romolo Caniglia dell'area per la genetica della conservazione Ispra e oggi vi illustrerò una serie di applicazioni proprio conservazionistiche della genetica forense. Negli ultimi anni, infatti, il commercio e l'importazione clandestina di specie esotiche, il consumo illegale di selvaggina protetta e le antiche medicine tradizionali stanno enormemente contribuendo alla perdita di biodiversità a livello planetario. Per cui la domanda che spesso viene posta a noi, biologi della conservazione, è quella che, se sia possibile, monitorare lo status conservazionistico ed identificare degli illeciti compiuti su specie protette, partendo dall'analisi del loro DNA. La risposta è positiva, è sì, ed è possibile proprio grazie alle tecniche messe a disposizione dalla genetica forense. La genetica forense è una disciplina che, utilizzando le moderne tecniche molecolari, permette di ricostruire i profili genetici degli individui coinvolti in un determinato reato partendo dall'analisi del DNA estratto dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un particolare crimine o reato. Sebbene si tratti di una disciplina sostanzialmente nata, ideata, per contribuire a risolvere degli illeciti in ambito umano, a partire dagli anni 90 i biologi della conservazione si sono resi conto che tale disciplina poteva essere utilizzata anche per risolvere e smascherare degli illeciti compiuti su specie protette. Uno dei primi e molto probabilmente più famosi esempi di genetica forense applicata alla fauna selvatica è quello di due ricercatori americani che, utilizzando dei mini laboratori portatili, proprio nelle loro stanze di albergo, analizzarono il DNA estratto dalle carni delle balene che venivano vendute sui mercati giapponesi, scoprendo che la maggior parte di esse in realtà appartenesse a delle specie protette, quindi non commerciabili. Tuttavia, applicare la genetica forense alla conservazione delle specie protette è un'operazione tutt'altro che semplice, perché, mentre in ambito umano esistono delle banche dati di riferimento che sono aggiornate costantemente, se non addirittura in tempo reale, innumerevoli pubblicazioni e protocolli standardizzati, in biologia della conservazione sono solo poche le informazioni di cui disponiamo e, nella maggior parte dei casi, soprattutto per quelle specie rare ed elusive, non esistono né protocolli standardizzati né set di marcatori molecolari specifici messi a punto. Per fortuna, al mondo, esistono delle eccellenze, come ad esempio il Laboratorio dell'Area per la Genetica della Conservazione ISFRA. Si tratta di un laboratorio che, essendo specializzato appunto in genetica della conservazione e in genetica forense, offre costante supporto e continua collaborazione alla CITES analizzando il DNA di numerose specie protette. Il DNA, infatti, il corredo genomico di un individuo, può essere contenuto in una miriade di campioni biologici che possono essere sostanzialmente suddivisi in due grandi categorie. Quelli di tipo invasivo, come ad esempio i prelievi ematici oppure le biopsie, che vengono prelevati direttamente dagli animali e quindi sono freschi e di buona qualità. E quelli di tipo non invasivo, come ad esempio le feci, i peli, le piume, le penne, che invece vengono recuperati semplicemente sul territorio senza disturbare gli animali e quindi meno nobili e pregiati dei precedenti ma altrettanto utili. Infatti, se tali campioni biologici vengono opportunamente collezionati e correttamente conservati, il DNA in essi contenuto può essere estratto ed amplificato per un certo numero di marcatori molecolari che se vengono correttamente combinati tra di loro ed opportunamente analizzati permettono di ricostruire i profili genetici individuali degli esemplari ai cui essi appartengono. Confrontando i profili genetici identificati tra di loro ma soprattutto con le banche dati di riferimento è possibile ottenere una miriade di preziose ed inestimabili informazioni difficilmente ottenibili con metodi diversi da quelli molecolari. È possibile infatti stabilire la specie o la popolazione di appartenenza degli esemplari identificati appunto per verificare se sti tratti di specie o popolazioni protette o al contrario cacciabili o commerciabili. È possibile ricostruire le relazioni parentali esistenti tra gli individui identificati ma anche stabilire se gli individui identificati siano degli individui puri o in realtà degli ibridi prodotti da pericolosi ed illegali incroci tra specie selvatiche protette e specie domestiche. È importante sottolineare che ISPRA è in grado di ottenere tutte queste informazioni dalle analisi molecolari perché ha un'esperienza ventennale nel mondo della genetica della conservazione e della genetica forense. Dispone di un laboratorio molecolare che lavora ed opera nel continuo rispetto delle norme di sicurezza e qualità. Dispone di banche dati di riferimento specifiche adeguate a livello mondiale per un elevato numero di specie ed applica dei set di marcatori molecolari sufficientemente variabili ed affidabili da poter distinguere con certezza popolazioni, specie ed individui partendo anche da materiale poco nobile come quello di tipo non invasivo. Adesso vedremo insieme una serie di applicazioni della genetica forense che hanno permesso a noi operatori del laboratorio dell'area della genetica della conservazione di risolvere numerosi casi forense. Per esempio in questo primo caso di studio la genetica forense è stata utilizzata per smascherare una frode commerciale riguardante una confezione di presunti storni che veniva venduta in un supermercato. Gli animali venivano venduti spiumati e congelati. Dopo che la confezione è stata sequestrata dai carabinieri forestali le analisi genetiche condotte a livello del diametro condriale hanno permesso di stabilire che gli esemplari della confezione non fossero degli storni bensì dei passeri, specie non cacciabile in Italia. In questo secondo caso di studio la genetica forense invece ha permesso di identificare la popolazione di origine di una sospetta pelle di canide che era stata sequestrata proprio dai carabinieri forestali mentre veniva tranquillamente venduta in un mercatino di forri in popoli. Sofisticate analisi statistiche come ad esempio quelle bayesiane e quelle multivariate hanno permesso di assegnare il profilo genetico della pelle alla popolazione italiana di lupo, popolazione protetta a livello comunitario e non ad altre popolazioni di lupo per le quali sono previste in Europa delle quote annue di abbattimento. In questo terzo caso di studio invece la genetica forense è stata utilizzata per ricostruire profili genetici degli individui cui appartenevano i dieci canini che facevano parte di una macraba collana sequestrata ad un presunto bracconiere in provincia di Genova dalla Polizia Provinciale di Borzonasca. Gli analisi genetiche hanno permesso di assegnare ed associare i profili genetici dei denti a sei distinti esemplari della popolazione italiana di lupo, tre maschi e tre femmine rinvenuti successivamente morti dopo essere stati brutalmente uccisi. Caso molto interessante perché per la prima volta in Italia la genetica forense ha permesso l'identificazione e la condanna di un bracconiere di fauna selvatica protetta. In questo quarto caso di studio invece la genetica forense ha permesso la ricostruzione delle relazioni parentali per smascherare un furto di tartarughe. Le analisi genetiche infatti e di pedigree ricostruiti hanno permesso di evidenziare un elevato grado di parentela tra gli esemplati di testudo ermanni rubati e quindi successivamente sequestrati dai carabinieri forestali e gli individui di testudo ermanni presenti nell'allevamento stesso. In questo quinto caso di studio invece la genetica forense è stata applicata per monitorare il fenomeno dell'ibridazione antropogenetica e smascherare una frode commerciale in cui la maggior parte degli esemplari sequestrati dai carabinieri forestali in otto diversi allevamenti italiani mentre venivano tranquillamente venduti come cani lupi cecoslovacchi puri sebbene apprezzi notevolmente superiori rispetto al normale sono risultati in realtà essere il prodotto di pericolosi ed illegali incroci tra cani lupi cecoslovacchi e lupi selvatici. La genetica forense ha permesso anche di smascherare delle false aggressioni da lupo nei confronti dell'uomo. Infatti le analisi forense condotte sulle tracce di saliva ritrovate sulla camicia di una persona che aveva dichiarato di essere stata aggredita a morsi in piena montagna da un lupo hanno in realtà dimostrato che l'aggressore non era un lupo bensì un cane domestico un achita americano che successivamente si è dimostrato essere il cane da guardiania del proprietario di una villa in cui la persona aggredita si era furtivamente introdotta in circostanze poco chiare dichiarando di essere alla ricerca di funghi pregiati. La genetica forense ha permesso anche di smascherare delle false predazioni su animali domestici come nel caso della puledra rinvenuta morta e consumata in provincia di Campobasso. Una profonda diagnosi veterinaria e le analisi genetiche forensi hanno però in realtà permesso di accertare che la puledra fosse morta per cause naturali, coliche intestinali e solo successivamente post mortem consumata e quindi non da un lupo ma dal cane dell'allevatore stesso che molto probabilmente sperava in questo modo di ottenere i risarcimento previsti per le predazioni da lupo sugli animali domestici. Infine la genetica forense ha permesso anche di chiarire delle particolari dinamiche intraspecifiche come nel caso della mamma e dei cuccioli di orso che sono stati ritrovati brutalmente uccisi in Trentino Alto Adige. Le analisi forensi effettuate analizzando le tracce di saliva collezionate sulle carcasse degli animali hanno permesso di stabilire che non si trattava di un episodio di bracconaggio antropico né tantomeno di un episodio di predazione da parte di altri animali come ad esempio lupi ma che in realtà si trattava semplicemente di un episodio di infanticidio compiuto da un maschio adulto di orso. In definitiva si può affermare che la genetica forense rappresenti uno strumento davvero importante per smascherare delle frodi e dei reati a carico di specie protette contribuendo così alla conservazione di numerose specie prioritarie. Però affinché questa disciplina funzioni e funzioni molto bene come diceva la mia collega Nadia Mucci in precedenza è necessario che ci sia un'elevata sinergia tra chi colleziona i reperti campioni biologici che poi saranno destinati alle indagini e chi compie le indagini in laboratorio. Sarebbe per questo necessario sempre effettuare una analisi prioritaria della fattibilità di uno studio per supportare un'indagine perché la genetica non può rispondere sempre a tutte le domande che sono necessarie per risolvere un caso. Qualora fosse possibile utilizzare la genetica forense sarebbe sempre auspicabile che chi colleziona i campioni biologici lo faccia nel pieno rispetto dei protocolli e delle tempistiche del laboratorio perché soltanto utilizzando questo approccio sinergico si potranno ottenere dei risultati concreti ed affidabili. La genetica forense in definitiva è una disciplina che necessita tuttavia di continui e costanti aggiornamenti ed è proprio per questo che negli ultimi anni ISPRA sta cercando di affiancare alle tecniche di genetica forense classica che analizza pochi frammenti del DNA tecniche di genomica forense che al contrario come diceva il dottore il professor Cioffi permette di analizzare centinaia o addirittura migliaia di mutazioni puntiformi fino ad arrivare ad analizzare addirittura interi genomi permettendo di ottenere una mole di informazioni ed un livello di dettaglio inimmaginabili fino a qualche decennio fa anche partendo da materiale magari poco nobile come ad esempio quello di tipo non invasivo partendo da nuove matrici biologiche come ad esempio il DNA ambientale oppure utilizzando dei nuovi dispositivi dei mini dispositivi portatili. Grazie per l'attenzione volevo ringraziare Nadia, Chiara e Claudia per avermi coinvolto in questa presentazione per aver organizzato il convegno volevo ringraziare tutti coloro che sono presenti in particolar modo il professor Ettore Randi e tutti coloro che negli anni hanno collezionato e consegnato ad ISPRA le migliaia di campioni biologici che hanno permesso la realizzazione delle analisi forensi. Grazie, grazie Romolo soprattutto per il rispetto e il risparmio anche dei tempi che ci hai garantito ma soprattutto grazie per il lavoro che fate e per la presentazione affascinante che ci hai appena fatto. Ci sono osservazioni rapide? Io avrei tante osservazioni ma se avremo tempo poi nel dibattito magari le affrontiamo perché uno dei problemi tu lo accennavi di tutte le tecniche forensi, io ho occasione professionalmente ancora oggi di essere consulente o perito nell'ambito di procedimenti di indagine o in ambito di procedimenti giudiziari e so bene quanto il rapporto fra il consulente e l'autorità giudiziaria giudiziaria, la polizia giudiziaria sia fondamentale all'inizio per poter arrivare poi a risultati. Sarebbe interessante insomma avviare questo dibattito ma lo faremo se ci sarà modo più tardi. Chiederei a questo punto allora al professor Bertorella, all'università Giorgio Bertorella, all'università di Ferrara di avviare la penultima relazione della mattinata. Il percorso che abbiamo seguito come avete visto è stato quello del contrasto all'illegalità della della promozione della legalità basata sulla costruzione di un contesto scientifico di conoscenza, di ricerca, di approfondimento tecnico scientifico. Poi c'è tutto un problema legato alla vigilanza che dicevamo e che è quello del fatto che se la vigilanza funziona preventivamente poi ci saranno delle specie sequestrate da qualche parte. Ecco queste specie sequestrate poi bisogna in qualche modo restituirle e il professor Bertorella ci parlerà credo anche di questo aspetto.